Cumuli di sacchetti di immondizia accatastati fuori dai capannoni, la carcassa di una vespa e di un'auto, rottami, sparsi un po' ovunque, c'è anche una roulotte sfruttata da qualche senza tetto. Siamo a massa nella zona della Concia, uno spettacolo di sporco e di degrado. I capannoni dell'ex segheria Roffo sono abbandonati, di notte diventano meta di tossicodipendenti e disperati. Lo conferma anche un ex dipendente della segheria che dopo il fallimento ha acquistato casa di fronte al vecchio stabile. Sono venuto anche le persone che fanno anche, come ti posso dire, la droga e tante cose. Ma queste cose io non è che con loro non parlo per nessuno. Noi facciamo sempre la nostra strada e loro cosa fanno dentro io non lo so. A condurci in questo angolo di massa sono i rappresentanti di Taglia Nostra. L'associazione da tempo conduce una crociata per riportare il decoro nell'area della Concia. Abbiamo una situazione critica con le porte aperte, con i tetti di Eternit, quindi sfogliano, sicuramente c'è il pericolo dell'amianto. All'interno dei capannoni erano state costruite le rampe per lo skateboard, l'idea di un gruppo di giovani che però si sono stancati in fretta. Il cancello ci sarebbe ma resta sempre aperto. L'area è stata acquistata dalla provincia che però non ha fondi per intervenire. Questi capannoni secondo me devono essere abbattuti perché non hanno nessun valore storico e soprattutto sono nell'alveo del fiume. Sono al di fuori di ogni logica idraulica. Questi capannoni sono abusivi? Sono stati costruiti nel 1950-1960 quando si costruiva tutto così. Ora poi le leggi idrauliche apparentemente sono diventate molto più severe per cui questi capannoni non potranno mai essere restaurati. E quindi si dovrà trovare un'altra soluzione. Fra l'altro libererebbe un paesaggio bellissimo e un'area molto bella degradata dove c'erano una volta 200 piante di limoni. Io non capisco perché Massa distrugge sempre le sue cose più belle.